Ciao a tutti e benvenuti sul canale per la puntata del 20 ottobre di My Home My Destiny. Prima di iniziare vi chiedo come sempre, di iscrivervi al canale e lasciare un like al video. Grazie. In ospedale, Nu si rende conto dell'immensa devastazione che ha colpito Magdi, rendendolo incapace di affrontare gli aspetti organizzativi relativi al funerale della sorella o a qualsiasi altra responsabilità. Quindi, si offre volontariamente di prendersi carico di tutte queste incombenze. Nel frattempo, Zeynep e le altre giungono per offrire il loro sostegno e conforto, invitando Magdi, Gemile e Nu a condividere la notte insieme. Dopo la terribile notizia, nessuno ritiene appropriato lasciare i fratelli soli in quella notte così dolorosa. Una volta fuori dall'ospedale, Magdi si rese conto della presenza del collega di Burhan, che era arrivato lì per reclamare la salma dell'uomo. Senza esitazione, Magdi lo affrontò immediatamente, presumendo che anche lui fosse a conoscenza del piano di Burhan per uccidere sua sorella. La polizia, già presente in ospedale, intervenne per separarli, mentre Zeynep e Nu cercavano disperatamente di calmare Magdi, il quale era troppo sconvolto e disperato per pensare con chiarezza. Le donne fecero ritorno a casa e comunicarono a Nermin che quella notte Magdi, Gemile e Nu avrebbero dormito con loro. Nermin, pur non essendo felice della notizia, comprese la gravità della situazione e decise di non sollevare alcuna lamentela. Nel frattempo, Zeynep e Sakine accompagnarono Magdi a casa per raccogliere le sue cose per la notte. Magdi lottò contro un flusso di ricordi che affioravano nella casa in cui Mujgan lo aveva cresciuto. Desiderava rimanere gli a ruminare nel suo dolore, ma Zeynep lo convince che non poteva restare da solo quella notte. Più volte, Magdi scivolò in pianti disperati, incapace di trattenere il dolore. Mentre lo sguardo impotente di Zeynep non riusciva a consolarlo completamente in quella situazione così dolorosa. Tuttavia, era giunto il momento di abbandonare quella casa. Sakine li ricordò di lasciare le luci accese nella casa solo per quella notte. seguendo la tradizione, e di posare le scarpe di Mujgan fuori dalla porta, come consuetudine. Nel profondo e intimo dolore che affliggeva la famiglia, tutti cercavano di trovare conforto e di affrontare il proprio dolore, unendosi nell'afflizione condivisa. A casa di Zeynep, Sultan e Demine erano già intenti a organizzare il rinfresco per il funerale di Mujgan. Gemile, visibilmente sconvolta e spaisata, si unì a loro e iniziò a dare consigli su come preparare le pietanze per il rinfresco in modo impeccabile. Quasi ossessivamente, Gemile si concentrò su dettagli insignificanti, cercando disperatamente di evitare di affrontare il dolore per la perdita della sua amata sorella. Sultan e Demine non potevano fare altro che cercare di rassicurarla e sostenerla, incoraggiandola a prendersi una pausa e a lasciare a loro tutti i compiti da svolgere. Riconoscevano quanto fosse difficile per Gemile affrontare la situazione e cercavano di essere presenti per lei in quel momento così doloroso. A casa giunsero anche Sakine, Zeynep e Megdi. Tuttavia, quest'ultimo non riuscì ad entrare nella casa della sua ex moglie, era ancora troppo devastato e sconvolto. Decise quindi di rimanere fuori, con Zeynep che rimase al suo fianco in segno di sostegno. Nel frattempo, all'interno della casa, le donne iniziarono a discutere della terribile tragedia che aveva colpito Mujgan. Sultan si rimproverò per non aver persuaso anni prima Mujgan a sposare un bravo uomo, mentre Sakine riteneva che il destino che aveva portato a questa tragica fine fosse inevitabile. Tuttavia, Emine non poteva tollerare questo tipo di discorsi. La sua reazione fu immediata, rimproverando Sakine e spiegando che ciò che era accaduto a Mujgan non era il risultato del destino, ma piuttosto il risultato di un atteggiamento e di un comportamento nocivo e incoerente, simile a quello che Megdi aveva dimostrato nei confronti della sorella, giudicandola e punendola invece di ascoltarla e proteggerla. Sultan decise di porre fine alla discussione, sottolineando che non era il momento di cercare un colpevole. Tutti erano responsabili di questa tragedia, genitori compresi. Aggiunse che se fosse possibile cambiare i genitori, si potrebbe cambiare anche il destino dei figli. Era un momento di profonda riflessione su quanto fosse difficile affrontare le conseguenze delle proprie azioni e scelte. Nel frattempo, Gemile era ancora profondamente sconvolta e agitata, incapace di trovare pace. Cerava disperatamente di occuparsi in continuazione, cercando di evitare di affrontare la dura realtà. No, preoccupato per lei, cercava di farla sfogare, ma Gemile non riusciva a dar sfogo al suo dolore. Continuava a preferire le faccende domestiche piuttosto che fermarsi a riflettere sulla perdita. Si concentrava sul dolore di Magdi e su come potesse aiutare il fratello, finché Noon la affrontò direttamente, mettendola di fronte alla cruda verità. Non era solo Magdi a perdere una sorella, anche lei aveva perso sua sorella, Mujgan. In quel momento, Gemile si abbandonò a un lungo pianto, finalmente realizzando che aveva perso per sempre la sua amata sorella. Nel frattempo, Magdi e Zeynep fecero ritorno a casa, dove furono accolti da Sultan, Sakine ed Eminè, che cercavano in tutti i modi di convincerli a mangiare e a rilassarsi. Dopo essere rimasti soli, Zeynep si addormentò quasi subito sul divano e Magdi la coprì con una coperta, troppo triste e sconvolto per trovare il sonno. La mattina seguente, Zeynep si svegliò senza trovare Magdi al suo fianco e cominciò a preoccuparsi su dove potesse essere andato. Chiese a Sakine di chiamare suo fratello per scoprire dove fosse. Poi, pronta per uscire, si diresse verso la sua auto aziendale e si rese conto che era stata vandalizzata. Sconvolta, informò immediatamente Nermine e Sakine, spiegando che l'auto era stata distrutta ma che all'interno non era stato rubato nulla. Sospettò che si trattasse di uno scherzo di qualche ragazzino e poiché non c'erano negozi lungo la strada, non sapeva come recuperare eventuali registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Nermine le suggerì di chiamare Baris per informarlo di quanto accaduto. Nel frattempo, Sakine ritenne che fosse prioritario occuparsi di Magdi, che si era ritirato per pregare. Zeynep contattò immediatamente Baris, che cercò di rassicurarla, dicendole di non preoccuparsi per l'auto e promettendo di occuparsi delle indagini. Dopo la telefonata con Baris, Nermine gli invia un messaggio, sospettando che Magdi potesse essere coinvolto nella vicenda. Baris concordò con lei e i due si diedero appuntamento per discutere ulteriormente la questione. La situazione si stava facendo sempre più complicata. Il momento del funerale di Mujgan era commovente e straziante, e nessuno riusciva a trattenere le lacrime. Tutti i presenti erano coinvolti profondamente nell'atto di congedarsi da lei. In disparte, Zeynep notò un gruppo di donne a cui si avvicinò. Queste donne facevano parte di un'associazione composta da vittime di abusi e parenti di donne che avevano perso la vita a causa della violenza di genere. Spiegarono a Zeynep che, anche se non conoscevano personalmente tutte le vittime di femminicidio, partecipavano ai funerali per affermare la loro stessa esistenza. Le raccontarono quanto fosse preoccupante il crescente numero di donne che perdevano la vita a causa della logica maschilista che permeava la società. E di quanto fosse difficile cambiare tale mentalità radicata che giustificava atteggiamenti violenti e controllanti da parte degli uomini. Zeynep ascoltò attentamente e ringraziò le donne per la loro presenza, assicurando loro che anche lei, come donna, non si sentiva sola in questa lotta. Terminato il funerale di Mujgan, Magdi si recò sulla tomba di Buran e strappò la dedica dalla corona di fiori posta sulla sua tomba, in segno di disprezzo verso l'assassino della sorella. Noe e Gemile si unirono a lui senza dire una parola, abbracciandolo per condividere il loro dolore e stare vicino a lui in quel momento così difficile. Tornati a casa, le donne si ritrovarono per condividere nuovamente il peso della tragica fine di Mujgan. Zeynep ricevette una chiamata dalla sua collega di lavoro, che la informò che non erano riusciti a identificare i responsabili del danneggiamento della sua auto. Sultan commentò il vandalismo sull'auto di Zeynep, lamentandosi del fatto che sembrava che le sfortune non dessero loro tregua. Nermin intervenne chiedendo se, secondo lei, la tragedia di Mujgan fosse semplicemente una tragedia o se fosse anche una conseguenza della logica maschilista che colpisce tutte le donne. Sottolineò come la mascolinità fosse celebrata mentre il ruolo delle donne fosse spesso relegato al servizio degli uomini, che le opprimono e ne impediscono l'indipendenza. Sultan concordò pienamente. Sottolineando come i ruoli imposti da una società tradizionale e la mancanza di fiducia in se stessi che ne derivava potessero portare a situazioni e comportamenti ripetitivi, impedendo alle persone di cambiare. Nermin aggiunse che anche l'educazione basata su stereotipi di genere non aiutava a cambiare le cose. Gli uomini, educati a mostrarsi forti e a difendere il proprio orgoglio in qualsiasi situazione, finivano spesso per stabilire ruoli autoritari, sottomettendo le donne. Nermin citò Magdi come un esempio evidente di questo atteggiamento, sottolineando le somiglianze tra lui e Buran. Sultan fece notare che Magdi stava cercando in qualche modo di cambiare. Ma Zeynep si sentì offesa da questa affermazione. Incapace di accettare qualsiasi tipo di paragone tra Magdi e Buran. Infatti, poco dopo Zeynep chiamò Magdi per sapere come stesse e, sentendolo ancora affranto e triste, decise di recarsi a casa sua. Nonostante gli avvertimenti di Nermin che le sconsigliava di farlo con tutte le sue forze. E così si concluse questa lunga e emozionante puntata del venerdì 20 ottobre, in cui molte emozioni erano state messe in gioco. Zeynep sembrava nuovamente lasciarsi coinvolgere da una sorta di sentimento di pietà per Magdi, ignara del fatto che fosse stato lui a distruggerle l'auto e che il suo atteggiamento potesse portare a conseguenze inaspettate e complesse. La trama si stava complicando sempre di più, con le vite dei personaggi intrecciate in un intricato labirinto di emozioni e segreti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni su My Home My Destiny. Grazie e, alla prossima!